1. Abbini ad una centrale termica zone di più EODC Come nel caso di un condominio con servizi centralizzati. Non puoi abbinare centrali termiche diverse ad un unico EODC. In questo caso inserisci più impianti nell'unica centrale termica delle EODC. Utilizzi il wizard Creazione Nuovo impianto per inserire gli impianti in centrale termica. Scegli fra le tipologie gestite in norma tecnica. Integri se necessario ulteriori componenti. Inserisci l'impianto. Personalizzi la descrizione. Definisci anno di installazione e codice catasto impianti. Nei progetti del tipo Certificazione, APE. Il wizard Creazione Nuovo impianto prevede anche la tipologia Simulato. Il wizard Creazione Nuovo impianto prevede anche la tipologia Simulato. Austin Creazione Nuovo impianto prevede anche la tipologia Simulato. Studi con questo prestoice Oscurritto I 전�if